Quel che emerge chiaramente dall'analisi politica di quest'ultima tornata elettorale in Abruzzo è che cambia la geografia politica del centro-sinistra e che di contro il centro-destra perde quasi ovunque da quando c'è Marsilio alla guida del governo regionale. E questa è la sintesi delle considerazioni sul voto di Camillo D'Alessandro, coordinatore regionale di Italia Viva, che si rivolge in primis al PD per iniziare un lavoro di ricostruzione politica in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Il centro-destra perde ovunque, dove vince veramente per pochissimi voti a Lanciano. Da quando Marsilio è il regione il centro-destra perde. È successo nelle scorse elezioni amministrative a Chiediavezzano, adesso in tutti i comuni sopra 15.000 abitanti. La seconda certezza è che cambia la geografia politica anche del centro-sinistra. Sono stati determinanti le forze civiche, liberali e riformiste che abbiamo messo in campo noi in tutte le parti. Abbiamo ottenuto un risultato straordinario, per un punto non siamo il primo partito nella città di Sulmona, piuttosto che il 7% a Francaville, il 6% a Vasto, il 5% a Lanciano. Se a questo noi aggiungiamo i risultati di azione dove si sono presentati, la componente moderata, liberale e riformista abruzzese fa la differenza. Il nostro compito è esattamente questo, aggregare questa componente, metterci insieme e ragionare insieme su quale Abruzzo vogliamo, con azione, con più Europa, ma con i tanti civici che ci guardano e con i quali abbiamo fatto dei patti a livello locale. Per il coordinatore regionale di Italia Viva, dunque, il campo largo auspicato anche dal segretario nazionale del PD, Enrico Letta, non può prescindere da quell'elettorato mobile che in Abruzzo, oggi, include i tanti civici rimasti senza una casa politica. Per far vincere il centro-sinistra in Abruzzo e a livello nazionale è necessario sfondare nell'ambito di quella parte che viene considerato elettorato mobile, che si muove da una parte dall'altra ogni volta nelle elezioni. Ed è tipicamente un elettorato di centro. Se l'Abruzzo, attorno al PD e con il PD, costruiamo il campo liberale e riformista che poi sperimenta delle alleanze, si può discutere. Se invece il meccanismo è che ho definito Biancaneve e Sette Nani, cioè Biancaneve e PD, il Principe Azzurri, 5 Stelle e poi chiamano gli altri, credo che questa cosa non funzioni. Partita aperta, dunque, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Nel 2022, infatti, il voto all'Aquila, Ortona e San Salvo sarà un importante banco di prova, soprattutto per le regionali. Questa regione ha già finito il suo corso. Lo ha finito innanzitutto nel rapporto con la cittadinanza, con gli amministratori locali e soprattutto con i bisogni del Paese. Qui ci sono delle emergenze che dovrebbero non fare dormire la notte Marsiglio. Vincere alle comunali significa vincere alle regionali. Non è così e per questo ci serve politica e non matematica che fa le addizioni. PD più 5 Stelle non basta. Stiamo parlando della regione Abruzzo con una larga tradizione di elettorato moderato a cui noi dobbiamo dare una prospettiva ed una casa, con le proposte e con il lavoro sui territori.